Con 5 Stelle no, lo dico in buona fede, essendo stato uno di quelli, forse voi ricorderete, che per primo anni fa ha detto guardiamo 5 Stelle, guardiamo il loro elettorato, guardiamo le loro idee, però dopo tutto quello che è successo, ma soprattutto col posizionamento che stanno avendo, non credo. Quando sento dire da Pizzul in Lombardia dobbiamo essere con i 5 Stelle, la mia risposta è not in my name, scusate l'inglesismo, ma non ci sto, non ci sto.